sarebbe stato trovato l'accordo tra Neymar e il Barca e il Barcellona potrebbe esserci infatti il ritorno clamoroso da parte proprio di Neymar e il club calcistico in questione sia il Barca e il Barcellona il brasiliano starebbe infatti trattando una risoluzione di contratto con il Paris Saint Germain e secondo quello che poi ha riportato in Spagna avrebbe già trovato una piena, totale, completa intesa proprio con il Barca per un contratto di ben due anni più un altro anno, quindi tre anni in totale a 13 milioni di euro a stagione dunque è un'importante novità, questa potrebbe esserci il ritorno del grande Neymar al Barca e il Barcellona e il Brugrana starebbe trattando ma sembra essere quasi certo che con ogni probabilità, ripeto, tornerà al Barca e il Brugrana mi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di Youtube iscrivetevi, mi raccomando, commentate un caro soldato a voi e a prossimo video, grazie a tutti, buona giornata